Gli alleati arrivano a Ravenna, la valle del Po è libera, io sono a sud del Po, Po, sta verso il Po e vai a Milano, a Milano vai a Como e vai a Dongo dove hanno preso Mussolini e io conosco i comandanti, conosco tutti e lì c'è la più grande tragedia del comunismo italiano, la morte di Gianna e Neri, due partigiani bravissimi, bravi, straordinariamente bravi e se te lo dico io posso dire che è bravo, con cui abbiamo attraversato il lago di Como in barca, quando i tedeschi pullulavano tutte le parti, che sono stati uccisi dai comunisti.